Secondo il principe Keltas, Tairande è stata trascinata via dalla corrente del fiume. Se è viva, i miei naga la troveranno. Faranno meglio a tornare con buone notizie, fratello. La sola vista di quei mostri mi rivolta allo stomaco. Dove hai trovato creature così ripugnanti? Credimi, fratello. È meglio che tu non lo sappia. Sire Ildan, abbiamo trovato la vostra sacerdotessa. Lei e i suoi guerrieri stanno combattendo ancora contro i non morti, ma dubito che possano resistere a lungo. Avanti, bestie senza cervello! Assaggiate l'ira delle sentinelle! La luce di Elune non vacillerà mai! Faresti meglio a sbridarvi, se volete salvarla! Un contingente d'assalto di non morti! Ma ci stanno ignorando completamente! Cosa... Tyrande! Quegli orrori riempiono il cielo. Sarebbe una follia mandare le tue unità volanti ad attaccarli. Ora non possiamo contare su di loro. Elidan, devi trattenere i non morti e impedire che assaltino l'accampamento di Tyrande. Io scenderò lungo il fiume e... No, fratello. Io e i naga potremo raggiungerla più in fretta. Andrò io. Ciò che dici è vero, ma rischio molto fidandomi di te, Illidan. Giuro sulla mia vita che la riporterò qui, fratello. Io... ti credo. Andetora setilla, fratello. Abbiamo bisogno di altro oro. e ... Grazie a tutti. Non temere. Sono cieco, non sotto. C'era completata. Non so, non so. Non so, non so. Non so, non so. Non so, non so. Dea, illumina il mio cammino. La Terra e io siamo un tutt'uno. Per Kalimdor. Dea, illumina il mio cammino. Sarà fatto. Il nostro alleato è sotto attacco. Ci sono demoni da queste parti. Tutto qui? Il male si avvicina. Facile. Una cosa da nulla. Una cosa da nulla. Sire e illidan, abbiamo scoperto una diga che blocca un affluente del fiume. Dei troll delle foresti la presidiano. Ma il flusso che blocca ci consentirebbe di raggiungere più velocemente la vostra amica. Lo vedremo. Ti pentirai da vermi avvicinato. Dea. Dea, se la fine è giunta, moriremo con il tuo nome sulle labbra. Una cosa da nulla. Una cosa da nulla. Ti pentirai da vermi avvicinato. Una merda. La nuoletta è nulla. Muore, idiota. Muore, idiota. Il male si avvicina. Che cosa minaccia questa terra? Anadore in Italia Osi rivolgermi la parola? Una cosa da nulla? Facile Tutto qui? Anudora Per Kalimdor Anudora Sarà fatto Per Kalimdor Torfalla Anudora Come agi? Torfalla Spermiamo l'attacco Petici miserabili Sono niente affidito i saci. Sono niente affidito. Dea, se la fine è giunta, moriremo con il tuo nome sulle labbra. Sono niente affidito. Sono niente affidito. Il male si avvicina. Tutto qui? Ti pentirai d'avermi avvicinato. Il male si avvicina. 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 Di male si avvicina. Stanno arrivando di nuovo. Non saremmo una facile preda. All'attacco! Muore, idiota. Facile. Muore, infamiliota. Dea, illumina il mio cammino. Ti pentirai d'avermi avvicinato. La vendetta è mia. Muori, idiota. Ah, gli spazi aperti. Ti pentirai d'avermi avvicinato. La vendetta è mia. Muore, idiota. Una cosa da nulla. Ah, gli spazi aperti. Ah, gli spazi aperti. Tutto qui? Una cosa da nulla. Ah, gli spazi aperti. Procurarlo. Dobbiamo continuare a combattere. Non può finire così. Non può finire così. C'è il suo consegno. Patetici miserabili. Il vento risuono... ...degli abissi. La Terra e io siamo un tutt'uno. La mudderà. Rastera Falador. Il mio canto risuona dagli abissi. Sarà fatto. La mudderà. Sferriamo l'attacco. La mudderà. Sferriamo l'attacco. Non fa la mudderà. Non fa la mudderà. Un'altra ondata. Dobbiamo resistere. Come osi. Sferriamo l'attacco. Forza la mudderà. Non fa la mudderà. I nostri sacsatis sono. Non fa la mudderà. Non fa la mudderà. Sferriamo l'attacco. Per un battaglia. Poi, cosa si tratta? È un'attacco di un'attacco di un'attacco di un'attacco di un'attacco. Qualcosa è l'intorno. Ah, gli spazi aperti. Come osi. Il nostro andiatus è un attacco. La giunta. Patetici, miserabili. Il nostro andiatus, speriamo l'attacco. Il nostro andiatus è un attacco. Sarà fatto. I nostri andiatus sono su un assedio. Un'altra ondata. Dobbiamo resistere. Siamo sotto assedio. Un'altra ondata. Il nostro andiatus è un attacco. I nostri andiatus sono su un assedio. Ricerca completata. La mia impazienza cresce. I nostri alleati sono sotto l'assedio. La terra e io siamo un tutt'uno. I nostri alleati sono sotto l'assedio. Torfalanudorana. Torfalanudorana. Il lavoro è finito. Ci sono demoni da queste parti. I nostri alleati sono sotto l'assedio. Facile. Il lavoro è finito. Qualcosa non torna. Mercadio. Complicato. Il male si avvicina. Aspetto quel fiato sospeso. Sono cieco, non sorto. Il lavoro è finito. Una cosa da non o. Tutto qui? Facile Una cosa da nulla Tutto qui Una vendita è mia via. Ti pentierai d'avermi avvicinato. Ti pentierai d'avermi avvicinato. Sono tantissimi. Dobbiamo resistere. Muori, idiota. Il male si avvicina. Tutto qui? Il male si avvicina. Tutto qui? La vendita è mia. La vendita è mia. Muori, idiota. Una cosa da nulla. Unisco alla battaglia. I nostri alleati sono sulla sedia. Ti pentierai d'avermi avvicinato. Ti pentierai d'avermi avvicinato. La vendita è mia. La vendita è mia. La vendita è mia. Facile. Facile. Ti pentierai d'avermi avvicinato. Dobbiamo continuare a combattere. Non può finire così. Dipenterai da avermi avvicinato. Non può finire. Ilidan! Ilidan, che scherzo è questo? Sei venuto a darmi il colpo di grazia personalmente? No, Tyrande. Devi credermi. Sono venuto a salvarti. A salvarmi? Dove potranno mai essere? A quest'ora dovrebbe averla già ricondotta qui. Sbrigati. È la nostra ultima opportunità. Tu hai rischiato la vita per me. Non capisco. Qualunque cosa io sia, qualunque cosa io diventerò in questo mondo, sappi che mi prenderò sempre cura di te, Tyrande. Tyrande! Sapevo che non mi avresti abbandonata. Pensavo di averti persa per sempre, amore mio. Se non fosse stato per l'aiuto di Ilidan, ti avrei persa davvero. Abbiamo avuto molti contrasti, fratello. Per molto tempo non ho provato altro che odio nei tuoi confronti. Da parte mia, voglio porre fine a questo astio. D'ora in poi, voglio essere in pace con te. No. 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 No.